Buongiorno da FT Online, pochi spunti per quello che riguarda le borse, abbiamo il Futsimib che questa mattina è sostanzialmente sulla parità, anche ieri si era mantenuto all'interno della seduta disegnata dai prezzi nella giornata di mercoledì, il classico Inside Day che si ripete oggi, siamo quindi con i mercati in attesa di capire probabilmente come potrebbe evolvere la situazione in Ucraina dopo la venuta di Biden in Europa, per il momento non ci sono novità eclatanti se non a livello di dichiarazioni e quindi le borse restano in attesa, per quello che riguarda il Futsimib siamo in attesa ma sotto il 50% di retracement del ribasso dal massimo di gennaio, quindi abbiamo visto che il rimbalzo dai minimi di marzo ci ha portato a ritracciare la metà della discesa precedente e i prezzi sono bloccati su questa forte resistenza, sopra area 24,450 più o meno dove c'è il ritracciamento ci sarebbe un segnale di forza importante ma fino a che rimaniamo di sotto di quei livelli come vi ho già spiegato anche negli ultimi giorni c'è il rischio di una ripresa del trend ribassista anche con obiettivi al di sotto dei minimi di marzo, quindi una fase molto importante è questa sulla quale suggerisco di rimanere neutrali, se poi dovessimo vedere settimana prossima la rottura del ritracciamento allora si potrebbe puntare magari ad acquisti sui titoli più correlati all'indice, la situazione non cambia se andiamo a guardare il DAX anche qui abbiamo che i prezzi sostanzialmente da un paio di giorni si muovono all'interno del range visto nella giornata di mercoledì e anche qui siamo ormai da due settimane a ridosso del 50% di retracement del ribasso dal massimo di gennaio, quindi anche nel caso del DAX fino a che 14,350 non sarà alle spalle ma in modo definitivo c'è il rischio che questa fase di rimbalzo vista dai minimi di marzo si dimostri alla fine solo una correzione temporanea, mi dispiace non poter dire di più però questa è la situazione, sul DAX si nota anche la presenza di un potenziale doppio massimo, questi due picchi che sono allineati sugli stessi livelli però fino a che non andremo al di sotto del minimo di questo hanging man, di questa candela particolare con questa lunga coda verso il basso che praticamente con i suoi minimi ha ricoperto questo gap fino a che non saremo al di sotto di questi livelli, diciamo area 14.000 per dare un po' di filtro al segnale fino a che non saremo sotto i 14.000 punti, non verrà confermato uno scenario di bassista, sotto quei livelli ci sarebbero almeno 1.000 punti subito di discesa per andare a ricoprire quest'altro gap che si era aperto nella fase iniziale del rimbalzo. L'euro dollaro aggiunge poco all'analisi, è fermo da 3 o 4 giorni più o meno sui stessi livelli, intorno a 1.10, il mancato superamento di area 1.1150 secondo me che praticamente vedete questo massimo è stato coincidente con questo minimo, questo massimo di marzo è coincidente con il minimo di gennaio, per adesso l'impressione che il rimbalzo che abbiamo avuto dai minimi di marzo sia stato solo un return move a toccare dal basso, questo che era un importante supporto e che adesso è diventato un'importante esistenza, quindi fino a che siamo al di sotto di un 11.50 secondo me la tendenza resta quella contenuta all'interno del canale, c'è il rischio di tornare quindi verso 1.08, un ulteriore apprezzamento del dollaro che avrebbe segnalato dalla violazione dei minimi di questa settimana potrebbe essere un segnale negativo per le borse, perché starebbe a descrivere un ritorno di avversione al rischio sui mercati e quindi evidentemente il rischio di un'ulteriore fase ribassista per le borse. Sul mercato americano abbiamo visto negli ultimi giorni dei segnali interessanti, però adesso siamo nuovamente con una forte resistenza, i prezzi hanno superato nel caso dell'S&P 500 sia il 50% di retracement del ribasso dal massimo di gennaio, sia il lato alto di questo canale, però adesso c'è a 4.550 il 61.8% di ritracciamento, quindi ancora una volta un gradino importante da superare, la rottura di quei livelli sarebbe sicuramente confortante perché lascerebbe aperta la strada verso i massimi di gennaio, anche se poi ci sarebbe ulteriori resistenze da superare, però diciamo che in quel caso sopra 4.550 si potrebbe iniziare veramente a guardare con maggiore fiducia al futuro, fino a quel momento resta il rischio che abbiamo detto anche per il mercato europeo, cioè che questo rimbalzo alla fine si dimostri solo una correzione temporale, diciamo che se dovessimo scendere al di sotto del massimo di inizio marzo la situazione diventerebbe veramente complicata, fino a che siamo a di sopra di quei livelli invece si può sperare che questa fase che si sta disegnando dai minimi di febbraio sia destinata a proseguire nel tempo, vi faccio rapidamente vedere il perché di questa affermazione, non a tutti interessano le onde di Elliot, però per spiegarvi il perché dico questo, diciamo che se noi valutiamo il rialzo che c'è stato dal minimo di fine febbraio, possiamo dire che se c'è stata appunto questa fase di rialzo, poi una correzione, poi un nuovo rialzo, quindi abbiamo a questo punto tre segmenti, nella teoria delle onde di Elliot ci sono due tipologie di movimento, quello in tre e quello in cinque segmenti, quello in tre segmenti è di tipo correttivo, quello in cinque invece è di tipo impulsivo, ora se questo segmento si sviluppasse in cinque vorrebbe dire che potrebbe essere ripresa una tendenza rialzista di lungo termine, perché dopo una fase correttiva come quella che abbiamo visto dai minimi di gennaio, o questa fase correttiva fa parte di un pattern correttivo più complesso e allora il segmento successivo, che sarebbe l'onda B del terzetto, quindi questa sarebbe stata la A, quella che segue l'onda B, la B deve essere sempre in tre segmenti, oppure se la B, scusatemi, se la fase intermedia si sviluppa in cinque, vuol dire che non è appunto un'onda B, ma è che è ripartita una tendenza rialzista di lungo termine. Ora per discriminare tra un movimento in tre e un movimento in cinque è necessario che l'eventuale fase correttiva che dovesse partire da questo test di area 4,550 o anche da sopra non deve scendere al di sotto del massimo del primo segmento rialzista, quindi se i prezzi dovessero mantenersi durante una fase di eventuale ripiegamento al di sopra di questo livello, quindi al di sopra del massimo di inizio marzo, ci sarebbe la possibilità di vedere poi proseguire la fase ascendente con target che potrebbe essere anche lontani dai livelli attuali, se invece dovesse esserci la violazione di questo importante livello di supporto, vorrebbe dire che tutta questa fase è stata solo una correzione, cosa che per il resto viene confermata dal fatto che per adesso siamo sul 61,8% di trancement, e si rischierebbe in quel caso la ripresa della tendenza di bassista duratura, quindi i punti focali sono 61,8% di trancement, 4,550 al di sopra del quale, come dicevo prima, lo scenario si farebbe decisamente più leggero, una prospettiva di rialzo più credibile, se invece adesso scende al di sotto di area 4,4, dove c'è il massimo di inizio marzo, vorrebbe dire che aumenta molto il rischio di assistere a una fase ribassista più consistente e potenzialmente anche sui minimi di inizio mese e anche al di sotto di quei livelli. Per quello che riguarda il Nasdaq 100 possiamo fare esattamente le stesse considerazioni, sopra il 50% di retracement del ribasso dei massimi di gennaio, diciamo sopra area 14,8,50 avremmo un segnale positivo, sotto invece il massimo di inizio mese potrebbe partire una fase ribassista anche estesa. Per quello che riguarda il Bitcoin, ieri abbiamo visto un importante segnale di forza, la rottura della media mobile esponenziale a 100 giorni, diciamo spesso ultimamente che Bitcoin e Nasdaq sono fortemente correlati, questo segnale di forza sul Bitcoin è sicuramente ben augurante, però vedete che c'è questa forte resistenza orizzontale intorno ai 45.000 dollari e poi c'è il lato alto del canale intorno a 47.500, quindi di breve potrebbe esserci prima il test di 45.000 e poi eventualmente anche quello di 47.500, però fino a che rimaniamo dentro questo canale c'è il rischio che tutto il canale alla fine si dimostri una fase solo correttiva, il classico flag correttivo che poi lascia il posto alla ripresa del trend ribassista. Per quello che riguarda il video riservato agli utenti Patreon andremo a guardare un po' di titoli del mercato italiano, Stellantis, STM, Telecom Italia che oggi è in forte rialzo come già del resto ieri, Eni e Leonardo, quindi se avete curiosità di vedere cosa diciamo su questi strumenti potete supportarci tramite Patreon FTA Online. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona fine settimana e vi do appuntamento a lunedì con il nostro consueto commento giornaliero.